ciao ragazzi guardate sto granchio puliziotto che cazzo sta mangiando un altro granchio ora provo a prenderglielo ok glielo ho preso questo stavo mangiando da noi li chiamiamo i carabinieri questi ora provo a ridarglielo vediamo se se lo viene a prender lo metto qui vediamo se va a prenderlo vediamo se la corrente lo sta portando così adesso l'hai preso adesso lo mangio che dicono che il granchio blu si mangia gli altri granchi e perchè è questo o no? ora come si mangia bene? che ci sono i carni anche lui oggi lo sto provando però ratter ragazzi speriamo bene un abbraccio a tutti